buongiorno a tutti io sono sballerci mi raccomando iscrivetevi sul canale sballo tv e seguite tutte le nostre avventure con i passi del pianeta o vi mandiamo a casa una babbiona grassa senza meta ok mi raccomando e condividete in massa o perdete la matassa un salutone e buon halloween a tutti da sballerci eia babbo eiappoo